Sì, come stai? Siamo tutti qui, eh? Forza! Che è successo? Sei caduto per caso, hai sbattuto nella testa? Non lo so, all'improvviso... mi sono sentito confuso. Fili, sta tranquillo, entra tutto bene. Ti ricordi un sacco di cose per essere uno smemorato. Lì devo buttare giù tutto. Non ho tempo di aspettare la legge. Ma tu cazzo so? Per ora è come se stesse vivendo negli anni 90. Filippo c'ha bisogno di noi. Eri il suo migliore amico. Hai detto bene, ero. E se morisse? Sentiamo! I femoros! Claudia! Ciao. Una rimpatriata così può mai mancare Claudia. Perché il casale ci riscita. Questa qui sarà la nostra casa comune. Non stai andando male per essere uno che potrebbe spaccargli la faccia. Alla fine col tempo si capiscono un sacco di cose. È come all'epoca. Loro lì a divertirsi, io qui a guardare. Prenditene vai come l'ultima volta. È troppo tardi. Mi volete spiegare che cosa è successo? Anch'io pensavo fosse tardi. Io stasera qui non ci volevo neanche venire. Ma poi mi sono detta, ricapiterà. Avrò ancora la possibilità di spiegare? Di chiedere scusa? Vabbè dai, brindisi, lo faccio io. Dai! Brindiamo all'amicizia. Quella vera. Sincera. Eterna. Quella che non tradisce mai. Checola. 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 Grazie a tutti.